buongiorno a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale youtube per chi non mi conosce io sono elisa sono sarta e condivido con voi tutto quello che so del mondo del cucito vi invito anche a fare un girettino sui miei canali social instagram e facebook dove troverete dei contenuti che non trovate su youtube sono comunque consigli di cucito o piccoli video veloci di tecniche di cucito che potrebbero comunque esservi d'aiuto quindi se vi va fatto in diretta anche sui social i link li trovate qua sotto trovate anche il link a un video che ho realizzato per raccontarvi la mia storia all'interno di quel video vi racconto come sono diventata sarta perché non lo sono sempre stata ed invito tutte quelle persone che spesso mi dicono ma io non ce la faccio ma io ho paura eccetera invito queste persone a guardarlo perché scoprirete che ci vuole solo un pizzico di coraggio ma torniamo al video tutorial di oggi che non è proprio un tutorial tutorial per metà possiamo chiamarlo allora oggi torniamo a parlare di carta modelli magazine perché nelle settimane scorse diciamo così vi ho parlato di questa rivista ho iniziato a studiare a testare a provare questa rivista ho iniziato a fare anche gli sfoglio ogni lo sfoglio ogni mese e vi ho promesso attraverso tantissime domande che mi avete lasciato sui social che avrei fatto un video nel quale vi avrei raccontato proprio tutto quello che c'è da sapere di carta modelli magazine quindi in questo video risponderò a tutte le vostre domande e vi spiegherò tutto e partiamo proprio dal nome allora carta modelli magazine rispondo in questo momento ad una delle vostre domande non è una rivista italiana è la traduzione ripubblicazione in italia di una rivista spagnola che si chiama patrones patron non so bene come si pronuncia motivo per il quale carta modelli magazine non ha possibilità in alcun modo di modificare una sola virgola all'interno della rivista qualcuna di voi infatti mi ha detto ho notato però che a volte si fa fatica a capire il modello dall'immagine e o figurino allora questa cosa è vera l'ho notata anch'io ci sono alcuni modelli che lo avete visto quando ho fatto il sfoglio il mese la settimana scorsa dove praticamente ho fatto vedere un abito dicendo che mi sarebbe piaciuto vederlo per intero effettivamente è vero qualche modello non è ben chiaro dall'immagine vengono fatte le foto alle modelle in determinate posizioni che non permettono di vedere il modello per intero questo però capita veramente in pochissimi modelli e un pochino guardando attentamente il figurino perché è vero che il figurino è un disegno ma rappresenta in tutti i modi il disegno proprio delle cuciture il disegno dell'abito quindi un pochino guardando il figurino e un pochino guardando il modello nell'immagine dovremmo comunque percepire come sarà il modello finale fermo restando che nella maggior parte capita su alcuni modelli nella maggior parte dei modelli comunque il capo è molto chiaro a di là di questo mi sono stati inviati diversi arretrati e ho potuto notare che i modelli sono molto attuali molto frizzanti e rispecchiano tantissimo i miei gusti quindi per i modelli voto 10 ma adesso entriamo nel dettaglio di questa bellissima rivista per ogni capo rappresentato per ogni modello abbiamo una piccola descrizione nella quale ci viene accennato come è costituito il capo le taglie per le quali è possibile ricavarne il cartamodello dal foglio tracciati e il figurino e qua già mi sono arrivata alcune domande proprio in relazione delle taglie perché in rivista c'è scritto ad esempio nel caso di questa blusa ma anche negli altri modelli taglia 34 38 42 46 chiunque noterebbe che comunque tra la 34 e la 38 c'è una 36 e tra la 42 e la 46 ad esempio c'è una 44 allora questo non vuol dire che non possiate ricavare le taglie intermedie semplicemente sul foglio tracciati sono disegnate sono appunto tracciate queste quattro taglie ma è possibile e dopo vi farò vedere come rilevare comunque anche le taglie di mezzo antecedenti e le taglie superiori ovvero di questo cartamodello ad esempio noi possiamo rilevare dalla 32 alla 48 dopo vi farò vedere come all'interno della descrizione non c'è come in altre riviste il suggerimento di tessuti alternativi da utilizzare oltre quello utilizzato per quel determinato modello ma qua rispondo alla domanda nessun problema perché dal prossimo sfoglio io mi impegnerò a suggerirvi i tessuti alternativi da utilizzare al di là di quello rappresentato dal modello stesso quindi per le taglie standard potremo rilevare dalla 34 32 alla 48 50 quindi già questo range di taglie vedete che arriva comunque può arrivare comunque fino alla taglia 50 se noi andiamo invece alle alle pagine presenti delle taglie curvi aspettate che vi allontano un po così se noi arriviamo alle taglie curvi ci sono mi sembra tre due o tre tre o quattro modelli e in questo caso abbiamo il segno delle taglie dalla 50 alla 58 questo anche qua le persone che mi hanno scritto però le taglie curvi ce ne sono poche allora questo vuol dire che per quanto riguarda la taglia non il modello noi possiamo rilevare la 48 la 50 la 52 la 54 la 56 la 58 e volendo anche la 60 vi faccio vedere dopo come si fa quindi per quanto riguarda la quantità di taglie si parla dalla 38 34 36 per le taglie standard fino alla 50 ma poi arriviamo addirittura quasi fino alla 60 per le taglie curvi all'interno della rivista abbiamo anche qualche modello per bambino ma ora vi porto proprio nella parte per voi più interessante più curiosa partendo da qua allora in queste pagine abbiamo una panoramica di tutti i modelli contenuti all'interno del numero e ogni numero i numeri dei modelli sono contrassegnati con un colore diverso questo colore rappresenta il colore che troveremo all'interno del tracciato quindi per questa camicia ad esempio è il modello numero 11 ed è in colore blu questo vuol dire che sarà un inserto c'è scritto 3b e il colore del tracciato sarà il blu bando alle ciance abbiamo scelto il modello abbiamo visto comunque la panoramica di tutti i nostri modelli e decidiamo che quel determinato modello ci piace ed arriviamo proprio qua la taglia da rilevare quale taglia dobbiamo rilevare su questa rivista allora per quanto riguarda il discorso che la rivista è spagnola e non è in italia parto col dirvi che normalmente sono una taglia inferiore alla nostra ovvero se noi normalmente abitualmente portiamo una taglia 42 probabilmente ma non è detto vi spiegherò perché dovremo rilevare una taglia 44 quindi la prima cosa è che a rispetto la taglia spagnola noi dobbiamo rilevare la taglia in più ma non soffermatevi sulla taglia che portate normalmente sul fatto che la taglia italiana è una in più in una in meno rispetto alla spagnola affidatevi esclusivamente alla tabella delle misure che ora vediamo più in dettaglio a proposito di misure torno un attimo indietro di una pagina dove abbiamo un foglio dove ci viene descritto come prendere le misure questa cosa qua è assolutamente fondamentale è importantissima perché io vedo che gli errori nei cartamodelli sia di costruzione con metodo geometrico sia rilevati all'interno della rivista la maggior parte degli errori arriva dalla presa delle misure dobbiamo cercare di prendere le misure nella maniera più precisa possibile questa è una cosa molto molto importante io ad esempio il primo modello che ho testato di questa rivista è stato un pantalone allora sono andata a vedere le misure della tabella misure il giro vita il giro fianchi e il l'altezza fianco hanno mi hanno detto guarda lisa le mie taglie rientravano bene o male tutte nella 44 nonostante io indossi normalmente una 42 quindi valutato che le mie misure determinavano che il cartamodello che dovevo rilevare la 44 io ho rilevato la 44 nonostante comunque porto una 42 fatto questo ho fatto la mia tela di prova ho indessato il pantalone e il pantalone è riuscito praticamente perfetto ho fatto la tela di prova non l'ho ancora cucito ma ve lo farò vedere cucito totalmente veramente prestissimo così vi renderete anche voi conto della pretezione nell'aver scelto il cartamodello della taglia corretta può capitare nel momento in cui confrontate le vostre misure con quelle della tabella che ad esempio il giro seno vi dice che siete una 42 il giro vita che siete una 44 nel giro fianchi magari siete una 46 questo dipende in base alla vostra fisicità perché comunque i fisici non sono tutti perfetti c'è il fisico per al fisico mela fisico clessidra e quindi queste misure possono variare la taglia non può avere tutte le misure incluse nella stessa nella stessa misura insomma ho fatto un po di gioco di parole ma non importa in questo caso vi do un suggerimento fate attenzione cioè pensate un pochino a come va come è fatto il vostro corpo e ragionate sul fatto che il punto vita la linea della vita e la linea dei fianchi è facilissimo modificarla nel cartamodello se nella parte sopra siete una taglia piccola e nella parte sotto ad esempio siete una taglia grande o anche viceversa potete dal cartamodello partire tracciando la taglia inferiore dopo lo vediamo e passare a una taglia superiore la parte comunque che dovete tenere in considerazione e alla quale dovete essere fedeli è la parte superiore quella della circonferenza seno e della larghezza spalle se le misure sono sbagliate attenetevi a quella che più si avvicina alla circonferenza seno perché perché poi il punto vita è semplice da modificare il punto fianco è semplice da modificare si possono stringere o si possono allargare più difficile invece da sistemare da modificare nel cartamodello è la parte del seno con le pensa quindi attenetevi alla misura della parte superiore anche quando ad esempio andate a realizzare un pantalone se il vostro punto vita è che ne so una 42 e il vostro punto fianchi è una 44 potete rilevare la taglia più piccola e andare a allargare comunque poi il fianco quanto necessario potete anche rilevare la taglia in base alla circonferenza fianco e andare poi a stringere di più il punto vita attraverso le pensa o i fianchi quindi ragionate sul fatto di come è fatto il vostro fisico e sulle parti che sono più semplici da modificare e quelle che sono più complicate detto questo non vi preoccupate se nella maniera più assoluta se voi magari portate abitualmente una 40 e il tutto quanto vi dice di rilevare una 44 non pensate no vabbè 44 perché comunque è l'industriale e il su misura o anche diciamo le taglie standard come nel caso di questi cartamodelli è normale che non vengano non vengono come quelli industriali che a volte ci strizzano come se fossimo delle sardine cioè questi sono modelli che dovrebbero cartamodelli che dovrebbero vestire nella maniera corretta ed essere modificati laddove necessario io non smetterò mai 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 di dirvelo mi raccomando la tela di prova non buttate via i tessuti non spendete i soldi per tessuti che butterete quando tirate giù rilevate un cartamodello realizzate prima il capo o una parte del capo su tela di prova il pantalone ad esempio non è necessario farlo tutto potete fare un pantalone fino al ginocchio in tela di prova per capire che vi vada bene stessa cosa per il modello non è necessario che state a fare le maniche magari però verificate che la parte superiore sia corretta però vi assicuro che fare la tela di prova con tessuti che costano due tre euro al metro o vecchie lenzuola vi risparmierà soldi e tempo soldi perché non butterete via il tessuto che avete acquistato e tempo perché una volta che modificherete il cartamodello potete potrete andare spensieratamente se così si può dire senza nessuna paura a tagliare il tessuto scelto il modello decisa la taglia che dobbiamo rilevare proseguiamo nelle pagine in cerca della della pagina dedicata al nostro modello io prendo per esempio questa minigonna pantalone con maxi tals che e vedo praticamente tutta la descrizione in alto ci viene detto che il modello lo troviamo nell'inserto 3 foglio a il tracciato sarà al verde nelle taglie dalla 34 alla 46 e i numeri di pezzi che dobbiamo cercare sono quattro ci dice che cosa ci occorre il tessuto le dimensioni bottone eccetera eccetera attenetevi alle misure di tessuto che vi dicono a meno che non siate comunque piccoline e che quindi le lunghezze saranno un pochino più corte diciamo però di solito la misura necessaria di tessuto in rivista corrisponde a quella che effettivamente vi servirà quindi vi danno istruzioni per il taglio e per la confezione se vi capita di confezionare qualche modello e avete problemi o non capite qualcosa scritto in descrizione mandatemi un messaggio sui social instagram o facebook io vi aiuto perché qualcuna di voi mi ha anche scritto tra le varie domande o dubbi che la descrizione della confezione non è non è semplice nel senso è un po complessa allora dipende anche dall'esperienza e dal grado di cucito al quale appartenete ad esempio perché nel mio caso ovviamente la descrizione non è così difficile da interpretare ma capisco benissimo leggendo le descrizioni che per alcune di voi soprattutto chi cuce da poco o chi non ha troppa dimestichezza comunque col cucito che queste spiegazioni potrebbero essere un pochino complesse in quel caso non vi preoccupate mi mandate un messaggio mi dite che modello state realizzando ed io vi aiuto a capire un pochino meglio la descrizione detto questo andiamo direttamente a staccare i fogli tracciati dal centro della rivista e vediamo insieme come rilevare il cartamodello in mezzo a tutta questa confusione di righe e come apportare alcune modifiche ok siamo giunti al momento di dover rilevare il nostro cartamodello io vi farò l'esempio non con la gonna che vi ho fatto vedere prima ma con uno smanicato cosicché avrò modo di farvi vedere sul cartamodello sia la zona seno che la zona vita che la zona fianchi quindi nel mio caso in questo nel caso di questo smanicato la rivista dice smanicato neopreme inserto 1 foglio b tracciato fucsia quindi che cosa facciamo stacchiamo tutti e quattro gli inserti della rivista vedete che li abbiamo qua a noi abbiamo bisogno dell'inserto 1 quindi individuiamo l'inserto 1 che è questo mettiamo da parte gli altri tre dell'inserto 1 noi servirà il foglio b quindi questo è il foglio a il foglio b di conseguenza sarà quello sul retro e questo è l'inserto 1 foglio b con tutta questa miriade di linee so benissimo che tutte queste linee colorate potrebbero spaventare molti di voi ma vi assicuro che è molto più semplice di quanto sembra ora vi faccio vedere perché vi farò vedere inoltre tutti i mitodi che potete utilizzare per ricalcare per andare a rilevare il cartamodello in mezzo a tutta questa confusione allora partiamo da qua in questo momento potreste vedere il mio telefono in movimento muoversi non troppo stabile perché lo tengo a mano perché così riesco a fargli vedere meglio quello con intenzione di mostrarvi allora nella parte alta dell'inserto già vediamo che modello 8 fucsia il nostro smanicato e neoprene sono i pezzi dall'1 al 3 in colore fucsia come potete vedere nel foglio tracciati ci sono tanti numeri scritti belli belli in grosso di diversi colori sappiamo che noi dobbiamo andare ad individuare il colore fucsia il modello è caratterizzato da tre parti dalla 1 alla 3 quindi dobbiamo individuare il numero 1 il numero 2 fucsia e il numero 3 fucsia vediamo un attimo eccolo qua è il numero 3 fucsia allora una volta che abbiamo individuato questi numeri se noi a partire da questo numero cominciamo a seguire con le dita la nostra linea fucsia individueremo chiaramente il nostro modello ovviamente abbiamo se ci avviciniamo abbiamo una linea continua una linea trattino tratteggio puntino tratteggio puntino una linea completamente piena di puntini e una linea a tratteggi molto lunghi questo sarà quello che differenzierà le nostre taglie sappiamo che il nostro modello è dalle taglie 34 alle 46 e che sul tracciato sono presenti la taglia 34 che sarò la più piccola la taglia 38 quella subito sopra la taglia 42 e la taglia 46 quindi se il nostro modello che dobbiamo rilevare è della taglia 42 noi sappiamo che dobbiamo ricalcare tutto il modello con le linee dal trattino grande trattino piccolo vediamo ora i modi per ricalcare rilevare il modello allora sicuramente il primo ed utilizzando la carta velina se voi utilizzate una carta velina molto leggera e trasparente vedete che si vedono tranquillamente le nostre linee bisogna fare un pochino di attenzione ovviamente se fate comunque fatica a vedere le linee possiamo utilizzare anche il pennarello una volta individuato il vostro numero tenete riferimento la parte più vicina al numero di modo da distinguere le taglie noi dobbiamo rilevare la taglia 44 che quella subito sotto e quindi con il pennarello iniziamo a seguire tutto quanto il nostro modello allora è vero che questo qua è un lavoro in più è un passaggio in più ma ricordatevi che le cose fatte bene richiedono un pochino di pazienza magari per aiutare alcune part per tracciare alcune parti aiutatevi con la riga e andate così a tracciare tutti quanti i contorni del vostro modello attenzione quando passate le linee ad eventualità che ad eventuali segni anche le tacche e disegni potrebbero essere difficili da individuare ma aiutatevi con i figurini aspettate che allontano un posto non si vede bene aiutatevi con i figurini perché al sul disegno dei figurini dove avete il piazzamento del tessuto vedete che sono segnate le tacche quindi prima di staccare la carta velina o quello che è dal cartamodello adesso lo vediamo assicuratevi di aver segnato gli stessi segni e le stesse tacche presenti sul modello ad esempio in questo momento noi stiamo io sto ricalcando la parte numero 2 e vedo che su questo lato qua abbiamo una tacca abbiamo una linea che è questa quindi cosa faccio scendendo dal laterale del mio modello che sto ricalcando con il penarello vado a individuare la tacca e vedo che la linea si trova qua e così la segno quindi tutta la parte del tracciato disegniamo tutta la parte del tracciato dopodiché controlliamo sulla rivista sul disegno del figurino dove sono le tacche verifichiamo di averle segnate tutte a questo punto vedrete che se andrete ad appoggiare la velina sopra il tracciato vedete come adesso vi sposto dal cavalletto per farvi vedere che guardate il vostro tracciato fatto passato con il pennarello sarà molto più visibile e anche le tacche in questo modo riuscirete a vederle tranquillamente il secondo metodo per riuscire a riportare il cartamodello sulla carta velina e di uscire di usare la rotellina dentellata come si utilizza semplicemente andiamo a mettere la carta velina sotto al foglio tracciati e andiamo a ripassare con la rotellina tutti quanti i contorni si è vero si segnerà leggermente il foglio tracciati ma io dubito che andate a cucire tutti quanti i modelli dello stesso foglio quindi secondo me è una cosa fattibile che si può fare fatto questo una volta che abbiamo passato tutto quanto il modello con la rotellina dentellata il risultato sarà questo aspettate che qua non sta accadendo tutto allora come potete vedere guardate cosa ha fatto la rotellina dentellata ha riportato il mio segno sulla carta velina ora questo segno quali passiamo alla matita la penna e lo andiamo a ricopiare questo è un altro metodo ma non è finita qua il terzo metodo è quello di utilizzare la carta copiativa come facevamo una volta quando andavamo a scuola quindi mettiamo il foglio la carta copiativa sotto in questo caso io sto utilizzando quella gialla perché non ho quella azzurra quindi non si vedrà tantissimo ma vi assicuro che se utilizzate quella azzurra si vedrà i tratti si vedranno comunque sulla carta velina e sotto la velina quindi velina carta copiativa il tracciato sopra e sempre con la rotellina dentellata o anche con con una pen o con qualcosa a punta comunque andate a ricalcare il vostro modello il risultato è uguale a quello di prima ma è colorato quindi sarà più visibile abbiamo quindi ottenuto lo stesso disegno fatto con la rotellina dentellata di prima ma come potete vedere è giallo se la carta copiativa fosse stata blu questo segno si sarebbe visto molto molto di più guardate che anche distanziando il telefono comunque il segno si vede ancora quindi non è un segno poco visibile è un segno che rimane comunque visibile adesso vediamo insieme come ricavare e ricalcare carta modello nella taglia intermedia inferiore o superiore allora come potete vedere ho evidenziato sulle parti del nostro modello tutte e quattro le taglie di modo che riusciate a vedere bene in questo caso il modello è nelle taglie 34 38 42 46 quindi mancano le taglie di mezzo una precisazione chiaramente si vede meglio la parte alta perché ci sono più linee concentrate farete un pochino di fatica a vedere queste quattro ma ve le ingrandisco poi successivamente una precisazione laddove vedete una sola linea quindi come in questo caso e anche come nel caso comunque del fondo del cartamodello è perché è uguale per tutte le taglie chiaramente la variazione di taglia cambia solo nella zona dove abbiamo più linee innanzitutto ci tengo a precisare che quando dovete avete bisogno di rilevare la taglia di mezzo il mio consiglio è quello di farlo direttamente sottracciato cioè di evidenziare esattamente come ho fatto io e farlo sottracciato perché sulla carta velina magari avete difficoltà già e ci sono molte linee sulla carta velina potreste avere maggior difficoltà e il tutto credetemi è più facile di quanto possa sembrare che cosa dobbiamo fare allora la prima cosa che dobbiamo fare è di segnare i quattro punti agli angoli in tutte le zone che sono diciamo un pochino più critiche per quanto riguarda il passaggio di taglia dopodiché con un righello dobbiamo tracciare una linea diagonale o non adesso vi faccio vedere perché che praticamente passa attraverso a tutti e quattro i punti perché comunque è la linea dove noi dobbiamo fare l'angolo ora io vi faccio vedere per una taglia qualsiasi dopo vediamo aumenti e diminuzioni però ovviamente il procedimento è uguale per tutte quante le taglie di mezzo quindi sul tracciato abbiamo una 42 e una 46 ma noi portiamo la 44 che cosa dobbiamo fare dobbiamo semplicemente misurare la distanza che c'è tra una taglia e l'altra e segnare il punto centrale su quella diagonale in tutte e tre le parti dopodiché chiaramente dovremo tracciare la linea della nostra nuova taglia esattamente nel mezzo la cosa fondamentale è proprio questa diagonale qua quindi anche in questo caso cominciamo a scendere nel mezzo nel caso della curva magari misurate per essere più precisi scendiamo nel mezzo fino a raggiungere il nostro punto centrale che deve rimanere esattamente sulla stessa linea così noi rileviamo la taglia intermedia lo stesso identico discorso vale per la taglia inferiore o la taglia superiore mettiamo ad esempio che l'ultima taglia come abbiamo visto quella rosa è una 46 e noi vogliamo rilevare una 48 attenzione attenzione perché in questo caso ogni linea sono due taglie quindi se noi vogliamo aumentare di una taglia dobbiamo calcolarne la metà ovvero allora la distanza tra una linea e l'altra nel punto della diagonale è esattamente di un centimetro noi abbiamo rilevato la nostra taglia di mezzo che è a mezzo centimetro quindi vuol dire che se dobbiamo aumentare di una taglia dobbiamo seguire la nostra diagonale e mettere il nostro punto a mezzo centimetro stessa cosa in tutte le altre parti qua non è molto difficile perché comunque possiamo farci dei piccoli segni a mezzo centimetro che ci aiutano poi a tracciare le linee una volta aggiunto e segnato il nostro mezzo centimetro possiamo rilevare seguendo le nostre linee ovviamente io adesso lo sto facendo ad occhio ma voi prendete tutte le misure del mezzo centimetro le linee continue ovviamente rimangono le linee continue in questo caso ad esempio la nostra linea scenderà in diagonale in niente fino a finire come le altre sulla linea precedente così in questo caso vedete che le linee partono tutte sulla stessa diagonale quindi da qua inizieremo a mezzo centimetro a curvare e seguiremo il mezzo centimetro fino ad unirci con la linea allora attenzione se voi vedete che in questo punto le linee scendono più o meno sullo stesso punto come qua anche vedete che qua sono quasi unite stessa cosa dovete fare con l'aumento taglie da qua a scendere stessa cosa dovete aumentare il cartamodello del vostro mezzo centimetro non dimenticate mai due cose in questo caso in cartamodelli magazine non dimenticate uno che la tra una linea e l'altra ci sono due taglie quindi se voi dovete aumentare di una taglia dovete dovete calcolare comunque la metà distanza di queste linee la seconda cosa per aumentare diminuire le taglie la cosa fondamentale sono queste diagonali se voi tracciate queste diagonali sul cartamodello e seguite questa diagonale per disegnare i punti negli angoli non avrete difficoltà vediamo ora invece il passaggio da una taglia più piccola a una taglia più grande in caso di differenza di taglia tra la parte superiore e la parte inferiore allora questo procedimento vale sia se avete la differenza maggiore tra una e l'altra sia che avete la differenza minore in qualsiasi caso il procedimento così o inverso è quello che dovete fare in questo cartamodello io ho disegnato sono andata a ricalcare con un colore ancora più scuro due taglie di modo da farvi vedere allora normalmente nei cartamodelli che partono punto ascella e vanno a finire come in questo caso sul punto fianco il punto più stretto il punto un pochino più più scavato diciamo ecco il punto vita che poi in questo caso cade più o meno in quella linea in quella tacca che abbiamo sul cartamodello allora taglia superiore punto vita abbiamo la 42 e punto fianchi abbiamo una 44 allora mettiamo che questa sia la 42 e questa la 44 quello che dobbiamo fare è in realtà molto semplice perché manteniamo questo punto qua che il nostro punto vita la taglia 42 e il punto 44 è questo qua esterno semplicemente in maniera diciamo abbastanza omogenea pulita usate un curvilineo dovete passare dal punto vita della 42 piano piano fino a finire niente create la nostra vostra nuova linea e passate alla 44 quando avete rilevato tutte le parti del cartamodello li dovete perlomeno dare una controllata ovvero è principalmente diciamo nel punto vita e nel punto fianchi perché è vero che i cartamodelli delle riviste sono compresi di vestibilità quindi è vero che se noi prendiamo tutte le parti del cartamodello davanti e dietro misuriamo le quattro parti del punto vita e vediamo che il punto vita viene 3 4 5 centimetri più grande è normale perché c'è dalla vestibilità quello che dobbiamo verificare noi è che la linea del punto vita e la linea del punto fianco e questo lo facciamo misurando tutte e quattro le linee di tutti i quattri pezzi perché il cartamodello è diviso in quattro parti due per il davanti e due per il dietro una volta misurate queste linee quello che dobbiamo verificare noi è che la misura della circonferenza vita o fianco del cartamodello non sia uguale o inferiore alla nostra perché questo vorrebbe dire che il cartamodello sarà stretto e questa è la cosa che dobbiamo verificare a meno che non si tratti di un modello realizzato con un tessuto molto elastico comunque elastico che allora la vestibilità potrebbe essere a zero o anche inferiore lo so che un discorso un pochino complesso però controllate perlomeno la circonferenza del cartamodello con le vostre per verificare che non sia piccolo su questo cartamodello vedete un'altra linea che non abbiamo visto e della quale non abbiamo parlato finora che è questa linea blu allora questa linea blu è la linea del dritto filo su qualsiasi parte del cartamodello che voi ricavate dal foglio tracciati c'è la linea del dritto filo deve esserci la linea del dritto filo questa dovete fare un attimo attenzione a cercarla allora ho visto che in questo caso nel disegno del figurino non c'è più o meno dove è posizionata però non è difficile perché voi sapete che nel colore in questo caso fucsia in mezzo al nostro modello quindi perlomeno non è che dobbiamo cercarla in tutto il tracciato dobbiamo cercarla all'interno del nostro della nostra parte di modello la identificate e la andate a ricalcare attenzione potrebbero incrociarsi diverse linee di dritto filo però sul foglio tracciati c'è scritto dritto filo davanti pezzo 2 quindi siete sicuri che questa è la linea del dritto filo del pezzo 2 quindi del modello che state rilavando in questo caso è importante perché i cartamodelli vanno posizionati su tessuto in dritto filo se non inserite la linea e non rispettate il dritto filo e ahimè il vostro modello il vostro abito il vostro capo che state realizzando sarà da buttare perché se c'è una cosa che è molto molto difficile in alcuni casi impossibile da modificare è un difetto dato dal dritto filo posizionato nella maniera sbagliata realizzato il cartamodello ci sono poi chiamiamoli sdifettamenti o chiamiamole modifiche da fare in base comunque anche alle nostre altezze in base a diverse cose ad esempio il cartamodello è disegnato su un'altezza non ricordo bene se di un metro sessantotto metro settanta non mi ricordo bene però ad esempio nel mio caso che sono piccolina devo andare a modificare il punto vita non accorciate mai il cartamodello dal fondo che sia un pantalone che sia una manica che sia il cartamodello di una camicia non va mai accorciato dal fondo ma va sempre accorciato dal punto vita anche le maniche non vanno accorciate dal fondo ma vanno accorciate in un determinato punto a questo proposito allora io ho fatto un video tutorial che si intitola mi pare come sdifettare i cartamodelli delle riviste dove vi spiego un pochino come fare ho anche fatto un video tutorial di come togliere i difetti al pantalone e inoltre io vi consiglio tantissimo questo libro che si chiama come usare adattare e progettare abiti per esaltare le curve che come ho spiegato nel video tutorial trovate nel libro spiegato e sfogliato nel video tutorial questo libro come vedete è specifico per lo sdifettamento dei cartamodelli delle riviste è un libro molto 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 utile che secondo me aiuta tantissimo quando vediamo che nel fare la tela di prova il nostro modello ha determinati difetti vedete come portare le modifiche come sdifettare è un libro davvero molto molto utile quindi per quanto riguarda lo sdifettamento diciamo che un pochino di materiale ce l'abbiamo tutti i link del libro e dei video relativi allo sdifettamento ve li lascio un'altra cosa quando rilevate il cartamodello fate davvero molta attenzione spendeteci un po' di tempo in più perché a me è capitato diverse volte che rilevato un cartamodello tela di prova mi risultasse enorme o piccolo ed era perché senza rendermene conto ero passata da una taglia all'altra insomma avevo sbagliato a ricalcare il cartamodello quindi prestate davvero tanta attenzione allora io credo di non aver dimenticato nulla ma se ho dimenticato qualcosa scrivetemelo qua sotto per questo video tutorial penso che sia tutto spero di avervi detto davvero tutto quello che mi ero segnata mi sembra di sì ma ripeto un'altra volta in caso fatemi sapere vi aspetto al prossimo video tutorial spero davvero tantissimo che questo video vi sia utile mi raccomando ci vediamo al prossimo video vi auguro buon cucito a tutti ciao